Una vittoria importante, vittoria tra l'altro sofferta perché è arrivata proprio in rimonta e proprio allo scadere. Sì, sicuramente molto importante anche perché io avevo detto ai miei ragazzi in settimana che avevo visto in tre occasioni il San Biase e già mi meraviglia la posizione di classifica che occupa. Poi sapevamo che sarebbe stata dura e così è stato, una squadra che ci ha messo in difficoltà nei primi minuti, poi siamo stati bravi ad uscire alla distanza con la gestione della palla, abbiamo costruito tante occasioni da rete. Nel momento migliore nostro è arrivato il loro gol, anche di ottima fattura, ma noi siamo stati bravi nel secondo tempo a non farci prendere dalla frenesia, abbiamo continuato a gestire bene il pallone, abbiamo costruito tantissimo e abbiamo sbagliato anche le occasioni più facili. Poi nell'occasione del pareggio ho visto che siamo andati subito a prendere il pallone, questo io conoscendo bene i miei ragazzi era un segnale che ci credevano e alla fine credo che il risultato sia tutto sommato meritato. Nel secondo tempo la sua squadra ha mostrato tra l'altro non solo di crederci ma anche di avere una grande forza di riuscire a chiudere il San Biase nella prima metà a campo per lunghi tratti. Questo è un elogio che faccio ai miei ragazzi perché lo ripeto è un'ottima squadra, è una squadra che probabilmente ha pagato in questa prima parte di stagione il non avere un realizzatore di razza. La nostra prestazione vale doppia proprio per questo perché è venuta contro un'ottima squadra che si chiudeva bene, noi siamo stati bravi a far girare il pallone, ad avere tanta pazienza cercando di non farci condizionare da quello che era il risultato e ripeto è un complimento che faccio ai miei ragazzi. Una partenza a razzo poi nel girone di ritorno per la sua squadra? Noi siamo una squadra che ha una termedia bassissima, non arriva ai 21 anni, questo è stato tutto il nostro campionato, alterniamo grandi prestazioni a prestazioni dove addirittura non siamo scesi in campo in qualche circostanza. Però sapevamo perché essendo una neopromessa sapevamo quali erano i punti forti e pagavamo a caro prezzo in qualche occasione l'inesperienza. Io mi auguro che questo girone di ritorno ci faccia capire quanto ci siamo migliorati dal momento che abbiamo cambiato molti elementi in questa fase di mercato. Capire quanto ci siamo migliorati è fondamentale per costruire il nostro girone di ritorno. Mister partiamo da un aspetto, quanto è arrabbiato? No vabbè, amareggiato sicuramente perché abbiamo perso la partita anche oggi sui titoli di coda, oggi ci sarebbe tanto da dire anche sulla partita. È una partita giocata, ha visto aperta da due squadre, bene o male, occasione da una parte e dall'altra. È rammarico che l'occasione noi abbiamo avuto sul vantaggio e non siamo riusciti a chiudere la partita, anche se la città di Messina comunque ha giocato una buona gara e davanti sappiamo che è molto pericolosa. Più San Biase nel primo tempo, se vogliamo fare un'analisi, decisamente più Messina nella ripresa. Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo? Abbiamo avuto delle defezioni dell'ultima ora che si vanno ad aggiungere alle numerose assenze, non ne ho mai parlato, però se andiamo a vedere le assenze già da principio, poi se ne aggiungono altre. Vedi Guerreri, Guerreri non stava benissimo già dall'inizio della partita, lo stesso Cacero non stava bene, Guglia, Idem, insomma poi alla fine vai a fare la conta e ti trovi realmente con pochi elementi a disposizione. Quindi cambiare, tanto per cambiare, non so se servo mettere persone in altri ruoli, già abbiamo adattato un Calidonna oggi a Terzino, poi ci siamo trovati purtroppo anche a fare la conta su questi infortuni dell'ultima ora.